buongiorno anzi buonasera buonasera a tutti eccomi col secondo aggiornamento della della giornata appunto dopo quello fatto dalla spiaggia in una splendida giornata del periodo natalizio calabrese splendida giornata sì perché comunque ormai quando si parla di bellissime giornate invernale sembra che bisogna comunque lanciare un grido d'allarme a mio giudizio non è così ovviamente la persistenza di alcune assetti bargi deve essere preoccupante ma ci sono anche le variazioni naturali cicli naturali e per esempio per quello che mi riguarda nel sud Italia belle giornate nel periodo natalizio ci sono sempre state anzi costituiscono spesso la maggio cioè diciamo il trend dominante e con anche giornate con temperature di 20 gradi quindi questo è quello che abbiamo adesso nei giorni successivi le cose cambieranno vediamo adesso come cambieranno nel frattempo prendiamo atto di quello che il clima attuale che ripeto è anche un clima molto gradevole comunque ad eccezione di laddove ci sono inversioni termiche che comunque e nebbie e nubi basse che costituiscono in presenza di un forte anticiclone invernale anche una caratteristica peculiare di alcune aree nella fattispecie la pianura padana in questo periodo soprattutto le regioni tirreniche ma oggi c'è stata anche una maggiore copertura nuvolosa al generale dovuto al fatto che il flusso atlantico inizia comunque ad abbassarsi di latitudine questo aspetto poi vi parlerò anche di questa carta questo aspetto è il preludio di quella che dovrebbe essere dovrebbe essere il trend dominante della parte finale delle ferie dopo delle ferie chi le può fare fino alla pifania comunque il periodo notoriamente deputato comunque almeno a quelle alle ferie scolastiche e quindi dal primo al 6-7 gennaio comunque nonostante non arrivi il freddo chiariamo l'ho detto anche oggi sennò dicono che io parlo sempre di freddo non arriva freddo con irruzioni artiche o comunque irruzioni fredde nel periodo che va fino al 6-7 gennaio ma arriveranno delle precipitazioni comunque nel soprattutto al centro nord ma insomma passaggi nuvolosi con piogge rovesci ci saranno un po' un po' dappertutto chi più chi meno nulla di particolarmente intenso e delle nevicate ci saranno nei settori alpini e l'inizio dovrebbe essere già intorno al 2 gennaio adesso li vediamo vediamo dovrò vedere come un flusso ondulato la cui esatta collocazione nemmeno ben prevedibile ma comunque già dal 2 gennaio una prima perturbazione se non anche prima al nord già con un passaggio intorno al 30 31 dovrebbe da iniziare a dare delle piogge e comunque un cambio di regime meteorologico poi cosa accade ancora tutto in discussione ma i modelli iniziano ad allinearsi con quella che è un aumento della pressione atlantica lo sto ripetendo più volte che dopo il 6-7 gennaio dovrebbe condurre quindi a queste ondulazioni quindi la circolazione da zonale cioè da os verso est lungo i paralleli dovrebbe cambiare diventare più meridiana meridiana e noi dovremmo essere in fase con una discesa fredda cioè con la saccatura con la parte di bassa pressione e a ovest ci dovrebbe essere l'alta pressione in questo modo gli impulsi artici o comunque l'aria fredda potrebbe irrompere nel mediterraneo centrale eccolo qua e vi faccio vedere questa anzi ve la faccio vedere da questa parte perché questa ti vede meglio guardate qui guardate che bella che bella carta vediamo se sono a fuoco bene ok perfetto e qui guardate che carta questa è l'emissione di stamattina del modello americano vabbè dicevamo quello è più o meno affidabile fino al range previsionale del modello europeo grossomodo combaciano poi che succede questa emissione vede un deciso aumento della pressione in atlantico con continui rilanci risalite altopressori la formazione del cosiddetto atlantic ridge cioè la cresta atlantica un qualcosa che domina tutto l'atlantico da settori subtropicali fino all'islanda e groenlandia e in questo modo si genera una discesa fredda con più impulsi artici che possono colpire diverse regioni vedete la copertura nervosa poi riguarda anche il nord italia anche in pianura addirittura e poi tutto l'appennino perché poi questi impulsi quanto quando scendono richiamano aria fredda anche dal nord est e allora arriva anche la neva bassissima quota al centro insomma questa che vedete è veramente una evoluzione da sogno cioè comunque che dovrebbe avvenire intorno all'8 9 10 gennaio anche dopo insomma questo è il periodo che poi probabilmente con una ipotesi in seconda decade tutto questo è molto e questo aspetto molto importante che ho sottolineato anche nel video di questa mattina tutto questo non è dipendente dalla stratosfera perché si fa un gran parlare di stratosfera poi sono intervenuti i soliti chiamiamo coloro che si ritengono deputati comunque a a dare le linee guida e che comunque si parla sempre di strutwarming non è affatto decisivo lo strutwarming non è quasi cioè raramente decisivo è vero ci vuole uno strutwarming mario ci vuole maior ci vuole la sui divisioni split e quindi con più lobby del vortice polare perché se non c'è frammentazione del vortice polare poi è difficile che il singolo lobo proprio un lago gelido possa poi dirigersi verso le medie latitudini anzitutto ci deve essere la trasmissione poi ai piani inferiori trofosferici insomma tutto un discorso questo però perché comunque bisogna parlare di questo riscaldamento sbaglia anche chi dice ecco guarda che bel riscaldamento fantastico adesso ci saranno evoluzioni gelide per tutto il mese no assolutamente no questo riscaldamento stratosferico che si vede nei modelli non è risolutivo è di tipo displacement però come ho detto già più volte negli anni scorsi la stratosfera era diciamo importante in senso opposto influenzava negativamente con un condizionamento di tipo freddo la troposfera i stati sottostanti e rovinava l'inverno lo bloccava praticamente e chiudeva le sorti spesso tra novembre e dicembre proprio in questo periodo adesso magari non ci sarà l'evento opposto cioè la destrutturazione completa del vortice polare ma ci sarà comunque una stratosfera debole che quindi non influenza la troposfera che può reagire e laddove ci siano le condizioni con altre forzanti ad esempio come la mio andrà in fase 3 vabbè l'elma di julian oscillation e altre forzanti che consentiranno comunque di espletare le evoluzioni più congeniali a noi e questa è una di quelle che potrebbero verificarsi si si vede un appunto lamento della pressione stratosferica e scusate della pressione in atlantico nei bassi strati da noi dove avvengono i fenomeni atmosferici e tutto questo potrebbe portarci a un'evoluzione molto molto interessante alla fine della prima decade allora sì ci sono molti interventi che dicono eh ma qui si rimanda sempre non è che si rimandi io vi dico potrebbe questo è quello che dicono i modelli al giorno d'oggi questa è una carta di oggi una restituzione grafica di un elaborazione che ovviamente è solo indicativa per fare una bella carta eccetera questo è quello che riporta il modello oggi è voglio dire non è che stiamo discutendo delle di qualcosa che potrebbe esserci dal punto di vista della previsione c'è però è ovvio che ancora abbiamo una fase sopramedia e queste sono le previsioni che ci potrebbero condurre a qualcosa di molto interessante vi ho detto anche quindi le colorazioni tra stratosfera e troposfera andiamo adesso a vedere un po più nel dettaglio quella che potrebbe essere l'evoluzione e cosa mostrano realmente i modelli innanzitutto guardate ecco l'immagine della satellite vedete questo mare di nubi l'italia sotto sono in prevalenza in noco c'è qualche precipitazione nel golfo ligure ma insomma in prevalenza è una copertura nuvolosa che sterile perché comunque ancora immersa soprattutto al centro sud in un campo di alta pressione di conseguenza per adesso non ci sono fenomeni particolari andiamo a vedere comunque dopo l'evoluzione ecco qui vedete ecco la circolazione zonale vedete come le linee come sono orizzontali le linee dei sobari sarebbero quindi il gradiente di pressione da sud verso nord si sviluppa quindi bassa pressione a nord alta pressione al mediterraneo questa linea dove le sobari sono più ravvicinate sede in tempeste addirittura c'è stato un tornado a manchester qui nell'inghilterra per darvi un'idea del potenziale del maltempo perché qui i venti sono molto forti essendo collocati tra le basse pressioni direttamente correlate al vortice polare fredde e il caldo che c'è con aria calda subtropicale di origine subtropicale che c'è nel mediterraneo in mezzo ci sono questa linea di tempeste potremmo dire guardate come continua la previsione ecco qua guardate si inizia a ondulare eccola qui la prima perturbazione che arriva a capo da c'è il 31 già un primo transito blando al nord ma intanto passa capo da sera di capodanno altro passaggio perturbato una serie entriamo nel flusso perturbato atlantico e guardate poi continua così continua e vedete come adesso i colori sono cambiati noi entriamo in pieno nel flusso perturbato atlantico ci sono periodi un po migliori interciclonici il sud meglio del centro nord che invece è soggetto comunque a continui passaggi nevolosi e questo per un po continua poi c'è e poi cambia qualcosa inizia esserci un approfondimento dei cavi d'onda quindi maltempo è più significativo questo e qui siamo a andiamo con la previsione siamo già alla befana la befana ecco qua la befana sembra che possa transitare un passaggio perturbato proprio sulle nostre regioni quindi befana non bella però comunque ancora il freddo non si vede poi che succede in questa emissione del modello europeo eccolo qua dal 7 gennaio inizia a risalire potente un'alta pressione in pieno atlantico guardate lì proprio dove deve essere questa emissione molto bella per questo ho voluto farvi vedere e qui guardate che entra guardate che nucleo che nucleo questo è il proprio da sogno questo nucleo gelido che entra in pieno mediterraneo e ci porta quelle nivicate a quote basse anche in pianura al nord questo per il 9 gennaio ovviamente un'ipotesi lontana ma che comunque il modello lo porta il modello americano oggi lo portava ieri e il modello europeo inizia a intravedere qualcosa di abbastanza simile ancora non così avanti per per appunto dopo la befana quindi succede questo va avanti va avanti e continua e guardate come sempre più potente l'anticiclone e ci butta addosso ancora tanto freddo da nord fino alla fine che poi alla fine anche perfetta guardate cosa arriva quindi questa è un'emissione fantastica del modello americano insomma avete visto questa emissione eccezionale è ovvio che cambia già adesso vuole essere leggermente cambiata adesso è ovvio ne si andranno su e giù però innanzitutto l'ensemble cioè i famosi spagli che vi ho mostrato e gli spaghetti tutti tentativi di prova dopo la befana vanno sotto media la media di tutte le emissioni va sotto media quindi dopo la befana diciamo le precipitazioni erano già arrivate prima e poi si va anche sotto media quindi possiamo anche lamentarci e dire no ma ormai tutto è cambiato ci sarà l'anticiclone eterno questo dico nei modelli voglio dire e quindi l'ipotesi più probabile dopo la befana è che ci sia instabilità e un clima sempre più freddo questa è l'ipotesi più probabile ora dai miei modelli poi tutto può cambiare ovvio così come se c'è un anticiclone a due settimane può cambiare vabbè facile la battuta sì ma quando c'è anticiclone stai tranquillo che c'è zecca vabbè questa però adesso non c'è l'anticiclone ora c'è bassa pressione frequenti bordate fredde nei modelli non tutte le emissioni ma vedono frequentemente questo tipo di evoluzione quindi se vogliamo dare seguito a quello che è la previsione quella che è soprattutto lo stile di questa rubrica che va a evidenziare quelle che sono le ipotesi se plausibili insomma più congeniali a noi appassionati tengo a precedere ipotesi più congeniali sì ma non assolutamente improbabili perché adesso ripeto questa è quella più probabile poi dopo potrà cambiare e quindi sono queste se volete ascoltare e quindi iscrivetevi al canale youtube vedete quanti belli aggiornamenti che vi sto facendo se vi fa piacere il bonus grazie e abbonatevi se volete al canale instagram e youtube meteoscienza c'è a giorno in continuazione ma soprattutto l'evoluzione si fa molto molto interessante ciao ciao ragazzi ciao ciao